Musica Grande festa Riva Rossa per la giornata di ringraziamento, momento particolarmente sentito dalle agricoltori e allevatori del territorio e che se vogliamo riporta un po' le tradizioni agricole ancora fortemente radicate in paese e nella campagna canavesana. Musica La Col di Retti di Riva Rossa guidata dal presidente Silvia Marchetto ha organizzato la tanto sentita e attesa manifestazione che ha visto il ritrovo dei mezzi ai Ciapei alla quale è seguita la Santa Messa ufficiata da Don Claudio by Marughez come l'edizione dei frutti della terra, le turempie montese della preghiera del Campagnin e benedizione dei tartori e dei mezzi agricoli. Musica L'evento è stata anche l'occasione di celebrare la giornata nazionale del dialetto delle lingue locali organizzata dalla Provoca di Rossa, sodalizio preseduto da Giovanni Perrone. Musica 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 Cos' our man and I, we're going to the river